Sarà il passo della svolta, questo è il punto di domanda, c'è grande interesse, intorno al nuovo piano aziendale dell'Asp che arriva dopo 5 anni di attesa. È vero che dopo l'approvazione avvenuta a metà marzo, il governatore commissario della Sanità regionale calabrese Roberto Chiuto ha fatto slittare i termini a 30 giorni dopo l'adozione dei provvedimenti regionali in itinere sulla rete territoriale ospedaliera, ma di fatto la nuova impalcatura dell'Asp è già ufficiale con la pubblicazione sull'albo pretorio. Fra l'altro il documento di programmazione è stato sottoposto a tutti i siderci della provincia con un incontro all'ordine dei medici prima della firma della commissaria Lucia di Furia. 4. I pilastri su cui si basa l'atto aziendale pubblicato, il primo testuale rafforzamento del centro strategico dell'azienda ha il duplice scopo di promuovere logiche di gestione ispirate ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e nel contempo di governare con una direzione unitaria i grandi processi di trasformazione che stanno cambiando il volto della sanità pubblica, transizione digitale, telemedicina, PNRR, nuovi modelli di sanità territoriale necessari a tutela delle fragilità. Tale necessità ha implicato anche la riprogettazione delle strutture che compongono la direzione strategica e la riconfigurazione del dipartimento tecnico-amministrativo, chiamato a gestire procedure sempre più complesse e altamente specialistiche. Secondo punto, definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria in grado di individuare standard organizzativi uniformi su tutto il territorio per garantire rispetto di livelli essenziali di assistenza a LEA. Terzo, individuazione delle priorità di intervento in un'ottica di prossimità e di integrazione tra le reti assistenziali territoriale, ospedaliere, specialistiche, sanità di prossimità, prevenzione e sanità territoriale, integrazione ospedale-territorio anche attraverso le COT, le case della comunità, gli infermieri di comunità, gli ospedali di comunità. E infine, potenziamento del coordinamento tra i vari setting assistenziali e della continuità delle cure per coloro che vivono in condizioni di cronicità, fragilità o disabilità che comportano il rischio di non autosufficienza mediante le istituzioni di un dipartimento del territorio e della fragilità.